aspetta a scatto quando gli avatti raddupizza quel coglione 17 27 ragazzi giuro vi giuro sto preparando un video dissing contro 17 27 brasiliano roma papa spa tutti quanti l'invito tutti quanti gli faccio tutti fra da tutti mi senti chi è papà spa ma è un altro spastico gli faccio mettere a tutti quanti ovviamente il caschetto non facciamo robe illegali per strada gli dico siete tanto coatti siete i re di roma siete i fratellini che vanno a 130 vieni in palestra ti metti gli faccio mettere pure il corpetto come donne io non mi metto niente metto sui guantoni da 16 e l'incomincio a piaccazzotti che ne pensi frate vediamo vediamo se accettano chiamami quando lo fai che voglio vedere guarda sarebbe 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 divertente come cosa secondo me assurdo qui ganja free dice ma perché sparare sulla croce rossa sì c'hai ragione frate ma infatti io evito evito proprio ovviamente tipo sto coglione dei 127 la come si chiama vedi solo quello sui social bella sham shadow bay rain ovviamente vediamo solo quello ultimamente da tre giorni uno commenta faridano però la colpa è nostra che li rendiamo famosi a sti deficienti perché li seguiamo allora io non io non li seguo assolutamente però è colpa nostra è colpa nostra nico qual è che non si sente il cazzo adesso senti sì ma non mi sa che sta a mettere il dito forse non lo so comunque c'è la colpa è sempre di chi li segue perché se non avessero followers o fan diciamo scatto tu nemmeno paratenti no no col cazzo paratenti ah con quelli ah con quelli sì va bene pure senza paratenti ah qua finchel aspettate c'è una teoria simpatica finchel dice ma solo a me mi sta simpatico 17 27 si vede che scherza papa e gli altri mi stanno sul cazzo pure a me ah scherza allora magari inizialmente non lo so come è nato l'imbecille vi dico la verità però un conto è scherzata un conto è famigliaia di video che surti a gente e ti venga a piaccio toccare tutte queste stronzate la che non c'hanno né capo né coda me c'è una cosa senza senso twitch può scaricarlo però è di andare sull'app store scaricare twitch e seguire discatizzi e così guarda la diretta ma scusa ma di informa prima le persone di sti fatti ma questo è mio fratello frate adesso il telefono con mia mamma l'ha sentito e no mo io dici a tuo fratello che siccome è arrivato in ritardo tutto quanto deve fare l'abbonamento quello da 10 euro se no non gli faccio l'abbonamento da 10 euro se no non gli do accesso al canale oh ma io qua dicono ma io le mazzate le darei a quelli che li seguono è vero è vero c'è poco da fare è vero è certo oppure c'è un'altra bella teoria di di cazzosa dice un tatuaggio un cazzotto e con quelli la a voglia cazzotti mamma mia